Il progetto europeo ISEN C, questo suo nome, porto qui un flyer che la rappresenta, nasce appunto da questa consapevolezza, la necessità per un'amministrazione pubblica di promuovere l'inclusione sociale e l'incontro che è stato promosso tra il Comune di Venezia, la cooperativa sociale a Gaggandra e le tessiture storiche veneziane qui rappresentate stasera con la tessitura BGV L'Acqua e Fortuni, è un incontro che ha proprio questo obiettivo, la possibilità di crescere in termini di opportunità, in termini di percorsi di responsabilità sociale d'impresa, l'investimento da parte di imprese tradizionali nella collaborazione con un'impera sociale come la Gaggandra. Il loro motto, festina lente, cioè affrettati ad agio, è uno simolo locuzione che unisce due concetti divergenti, indicati in un modo di agire senza indugi ma con cautela. Mirabilia, la nuova iniziativa della cooperativa che si propone di utilizzare eccedenza di eccellenza di manifatture tessili celdri come BGV L'Acqua e Fortuni, nonché Vettraie come la Salie. Dunque, il fondamento della loro attività artigianale è il recupero. Una selezione delle creazioni che realizzeranno con il nome di Mirabilia è vivere nell'esposizione. Ogni creazione è pezzo unico, fatto a mano, dal design alle rifiniture. Muovere le mani per realizzare un'idea in un'attività lavorativa esercita e arricchisce il cervello. L'artigianato emancipa e rende liberi. La Gaggandra era anche una nave medievale e tolita coperta che permettevano una navigazione sicura anche verso lì di lontani. Alla cooperativa sociale della Gaggandra auguro ancora più sicura navigazione, longeva e meritamente fortunata. Profettoressa Doretta, davanti. Grazie. 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 Grazie.